Condivisione, sostenibilità e comunicazione di grandi contenuti. E questo è il messaggio che vogliamo dalla Puglia trasmettere a tutto il mondo attraverso i più grandi broadcaster planetari che sono presenti per una quattro giorni a Bari e in provincia che ha dello straordinario. Dopo tappe importantissime di città italiane molto più blasonate, Bari ospita e abbraccia il Priitalia e lo fa con il suo contenuto più vivo e più vero. Puglia è una terra dell'accoglienza che non è ospitalità di maniera ma condividere quel poco che spesso è tutto. Con questo messaggio noi accogliamo tutti i visitatori che stanno accorrendo numerosissimi non soltanto per partecipare agli eventi tutti gratuiti che la RAI offre alla nostra comunità ma anche per dare un contributo di riflessione in un momento in cui la comunicazione, non soltanto la comunicazione istituzionale, ha bisogno di profondità e non soltanto della rapidità dei social network. Quindi benvenuto Priitalia nella città di Bari e siamo pronti a stupirvi con la nostra bellezza, con la nostra sostenibilità e anche con la nostra profondità.